se non è se non è se non è quale che cazzo che vita di merda rome è venuta di bustar ora ho detto ah c'è il cieco sopra mi sa che era un combo io sta macchina l'ho comprata come si salta mi ha salto un po' troppo certi ma stiamo scherzando l'ho presa si gode come se ci volesse tanto vabbè ma in che senso ma questa macchina è potente è potente è vero esplode ma che è successo che sono volato per in giappone com'era il giappone bello spettaculare rovet league e liscia c'è poi incredibile ho preso che mi piace arrivo io la sopra e come mi piace arrivo io la sopra tanti e buste ma io dovrei saltare da quel palazzo bella frena oddio come l'ho preso piano e dove mi chiedeva andare ho davvero un mozzo collo che porca troia ho preso come fatto a prenderlo non lo so ah no forse sembra abbastanza non me lo prende lo prendo ma c'è un muro invisibile e devi andare saltarlo ma che puttana il culo che gioco di merda e lo c'entra signori ma quanto cazzo è alto scusami devi saltare un bel po' oh c'è unントenro c'è un art segretario ti devi centrati il buco, e adesso finito no! e ne devi centrare 2 in zd in del mondo vado phi 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 eee goda come dc ficclli rosa per i nostri giorni per sempre io no questa cosa bianco gigante adosa che non esplodo ragazzi sono otto tubi di dobbiamo indovinare qual è quello giusto perché posso neanche sicuro che deve entrarci noi no picciotti per pochissimo non ci sono entrato per pochissimo dopo poco sopra da infilati ti prego maledette fiche strette non ci posso non ha capito ma c'è un muro invisibile il risultato uno ragazzo il troppo stretto carabinando è troppo stretto vabbè non lo so ammettere troppo stretto anche se da qua ragazzi e neanche resta entra nel tubo figura del tuo ma non va dritta non va non appena molti di gusto tutta storta punto vado storto di miglio così papà l'attivo busto mi sia il drizzano casalò che va al primo tentativo ce l'ho qua otto il sistema non ho detto con mia mamma mia madre foto non si stesse come si arriva a questi tutti che cazzo fa quello che non vuole che romano perché si va e non si può fare dai ti prego è perchè 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 si deve andare dritti e non va dritto lo so cantare il buco basta appena ti per busto va tutto storto non riesca da andare dritto assi ma sta macchina non sale non ha la potenza per salire dai 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 di nuovo di nuovo è quello di nuovo di nuovo odio sono entrati in un tubo ce l'ho fatto gioco di merda e ho capito 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 aspetta ma che ho capito io anche avevo capito luigi però non ho capito un cazzo ma come cazzo si fa lì ciarlo così il buco dai 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 quello entra io lo entro sulla parte no e qua sto facendo tipo air dribble nei nei tubi che bella entra nei tubi così fighissimo ma scusa non muore invisibile che prego la vista fermo e voglio capire come cazzo fa alleluia ne sono ancora sui tubi per io non scendo più come non scendi scusa perché sono in quelli sopra e me ricambio direttante d'acqua mica col cazzo che ci scende una cosa molto guarda guardami in alto mi vedi in alto sono al tubo forse ma non ci arrivo una macchina verso il dio cristo ci arriva fatto al primo tentativo la faccia ma facile visibile non riesca ad entrare dove si voleva non l'ho capito sì ma non ci si arriva ecco le cazzo e non me lo dico ho trovato a macchetti con busta a metà tra di non il momento per un busto dove si è mia ma l'ora e siamo di nuovo giù a me l'ultimo mi manca no mi sa che ho andato e tutte me ne sono girate di nuovo quello nero preso sono coglione allo ma io non ci arrivo picciotti che lo sarei in quello celeste dio bono quello celeste quello sopra ma quello si mette là sotto e salta inizia da sparare fuochi da alcuni dai 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 come mi chiamate andare così in alto ragazzi c'è un problema quello nero sono entrato è un problema sono tutti sbagliati io voglio in quello nero sono entrato io li ho presi tutti sono tutti col muro non capisco e da qua da questi tubi in poi si dovrà fare qualche qualcosa sono entrato in quello rossi sono entrato ma se io provo ad andare sopra scusatemi aaaaaaah scusatemi li vado sopra li passo sopra i tubi e me ne vado affanculo perchè dio un cane e non riesco anche ad atterrare che cazzo sta il tubo giusto non si vede un cazzo eh c'è il muo invisibile si ci sono i muri ma io non ho capito qual è perchè li ho girati tutti a qua tutti a 8 ragazzi eravamo di ora in quelli sotto no pensavo di averlo trovato eh niente ho quello verde pure io vi ciò sono sopra i tubi io non vorrei che ti potevi andare da qualche parte tipo adesso a sinistra sopra cioè tutti io li sto passando però non chiamano ma non è che si deve andare sopra il tubo sopra i tubi può essere ma sembra un po' difficile troviamo questo rosso come arrivato in mezzo ah non ci arriva sopra vedi ma se c'è arrivato sopra 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 si allora vediamo ma neanche ci arrivi sopra no 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 non c'è vero ci arrivi ci arrivi ci arrivo a me che ci arrivi legge sull'odio eh ma a porra che ci sia il muro adesso è in mezzo ai tubi e ovviamente a cadena porco di dio li fa una volta catterò ma perchè va così brutto oh mi direi controllo dove sono arrivato e qua porca madonna comunque viene più facile andare sopra dal tubo stesso vedete un tubo e poi è una cazzata andare sopra tempo c'è il muro per terra c'è il muro in ogni tubo non capisco se il tipo devi salire sopra a fare una spirale ma non cambia mi stanno cadendo i coglioni per terra quello bianco già ci sei stata ma che se n'era arrivato su un tubo non è sparito davanti perchè oh mi sono ripristinato perchè non va c'è muro invisibili io voglio andare a vedere dei muri invisibili magari tipo va di lato capolambo di lato mi sono bloccato dentro ma picciò che è e quello quello bianco mi sa che a non abbiamo ma c'era lontico lontico pagato e se viste il muro invisibile che a metà non c'erano non c'erano non c'erano bianco ci sono andato ragazzi è stato l'ultimo che ho visto da te ti vede che il muro un po' più indietro però oddio si è il bianco ragazzi ha dovuto passare il bianco il bianco ho fatto 1 ma la regola per andare io non ho capito se anche ci sono i muri per fermarmi questa volta è un po' abbastanza divertente vabbè poi se mi va a sinistra possiamo andare a destra dai ti prego ti prego ti prego no di pre e c'è l'uscita non ci vuole tanto l'ho presa ma il proprio alleluia minchia ciò la sai io lo sai cos'è pensavo che da quello bianco dove può arrivare a qualcosa azzurro ma che minchia di città stavano minchia ho pensato in me eh già sono morto il risotto io vado ad essere lui quando attivo il tuo posto bello qualcosa rosso ci arriverà ormai perché vabbè i tubi sono già sono rotondi essendo rotondi non c'è una piano dritto a livello dove saltare logicamente la macchina te ne va andare dritto vai a letto vai a letto perché non va dritto fermati 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 no 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 si ferma inutile non si ferma oddio mi sono salvato sono entrati in tutti viciati in tutti tranne quello di nuovo in collo azzurro no ma che nini vabbè io io non ci arrivi in coloro rosso minchia ci fare proprio ah vedi che ci stava arrivando senza volerlo ma quello rosso che noi dai quelli piccoli dai no entri quello giallo entro dorilla giallo sì 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 capisci questo salta impossibile lo posso dire ma zitti silenzio silenzio che sono atterrato sopra un tubo dov'hai di creare sono arrivati in color rosso dall'inizio ma sto accettando ragazzi silenzio nooo devo andare in quello perde no non riesco io non riesco ad entrare in quello bianco in quello giallo sotto no no dimmi che c'è un c'è che poi c'è pure quell'arancione oddio come l'ho citata ragazza c'è 100.000 lui e quelli più bravi non riesco vicio basta non riesco basta mi sono dato il cazzo non ci riesco che ti ha detto non è possibile non ci riesco non è possibile non ci riesco vai di che se ci può arrivare che è vado troppo alto lo troppo basso che dipendere nooo 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 che cos'è eh vicio basta io voglio morire cos'è oh ma oh ma oh ma oh oh caccia di oh entro in quello rosa non in quello buona aspetta aspetta basta vabbè poi ci vado vabbè 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 non vabbè non vabbè non riesco non riesco che vabbè fatti rosso vedi ragazzi ma che sto buco così piccolo da prendere no vabbè in senso no fai no impossibile a posto ok mi pare di che con lino per l'indosso darei ai a ragazzate uno l'ho fatto pure senza perché forse forse ho citato aspetta scoperta che deve arrivare qua sopra dove sono io che è più facile io ho fatto il rosso poco fa e ti fai pure l'arancione fidati ma lei vuoi sfruttate i muri che ci sono per atterrarci mamma mia però se a me ricetto ho citato ho citato picciotti ho passato io sono passato in mezzo ai dubbi ho passato ragazzi ma sono troppo carazzo troppo preciso la volta è che devo fare quale aspettano in dei bucci romano ma se lo devo fare qualspetta maniare di sbattare contro i moretti con il livello voglio vuol dire bello che ha appena detto no non vuol dire niente quello che ha detto devo andare a sbattere contro il muro a me c'è la posti di fila non c'è c'è periccio impossibile cano nè non riesco ad andare più in quello rosso ma si può è stato un braccialetto aliena renderlo così ma che cazzo sto cantando qua perchè deve andare sempre adesso quando io gli dico figlio di puttà deve andare dritto css nevo ti sento di merda lei lei questa è difficile ma nooo non capisco perchè mi va di là cosa mi già sbaglio cosa mi già sbaglio cosa mi già sbaglio per me già è un miracolo se sono arrivato qui perchè si 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 va tutto di là non mi va più dritto ma come è possibile no ma guarda per quanto rana che giri perché giri no signorano mi piace no signorano ti prego no signora come voi che ho sentato anche anche il cazzo non è una pila 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 non è una niente ma non è una niente ma non ci arrivo che ci vado così non fa sempre più devo farlo uno alla volta non ci arrivo non signorano non signorano non signorano non signorano bella ciocco bella fina modella occhio come mai ma le capelli neri e' troppo bella ne fanno sere non è babbiana no 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 è così no però vabbè ma è abbastanza facile non si può fare è vero incredibile incredibile incredible incredibile mamma mia ma è così tanto bello alizio ma fa un culo ma va fa un culo ma non fattico ma non fattico ma non fattico no 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 era così tanto bella l'inizio ma è diventa togliamo telefono prima che vola si 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 che c'ho accanto io io devo metterlo a cazzo e dimmi papà così sasera tu qua e qua il mio passaggio deve andare sinistra come quando lo svegli ho preso un po' di rispetto e infatti si passa da qua mi chia io gli aiuto mi chia sembra che sta per essere ucciso sembra che sta per essere ucciso peggio c'è entrato un lato in casa aiutate aiutate vabbè meglio avere un lato in casa che questa cosa è troppo grande adesso il fisello per me troppo grande le due palle se non lo sto fuori il sorbo va bene non ci arrivo 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 non posso finire no 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 e fin qui e fin qui ci arrivo non riesco ad andare avanti più di così no e non io non uno solo 34 perché te ne fai di 34 non so non so chi si fa oddio ma sono preso dai ti divento un devore è diventato no evochi ragazzi non riesco ad arrivare alla fine non capisco come si fa aiutate a noi come pretendi che noi ti aiutiamo no ragazzi ci sono tutti i murini visuali anche se io ti aiuti non so dove devo passare ragazzi no ti giuro la nostra sinistra la tv non sto scherzando video finito ma stai minacciando no io la tv tutte e due ma perchè io da qui all'altro non riesco ad arrivarci non capisco perché va tutto storto manca poco che mi stacco la pelle della faccia e il muro ragazzi non ti dobi se la simmetria è buona io dovrei atterrare buona dc no allora come cazzo devo fare io non lo so non lo so come devo fare io se salto qui se salto qui vado storto e quelli il problema ci sono le cazzo siete se noi pensi che siamo fermati nooo quelli a cerchi grazie che si sa i dubbi quadrati non lo sapevo lecce cristalline ce l'hai fatta al minuto che ho fatto il rosso e' come come hai fatto a farlo ma che cosa cazzo ne sono io una volta sola sono andata a perdere un sacco di modulo stardo in giro l'arancio l'arancio e' come quello rosso deve direttamente all'arancione che ha detto si ragazze non ci credo ho detto io si c'era una volta che lo dice oddio picciotti guarda dove sono sono sopra il coso verde no ci attiva indietro noi non c'è quello arancione avendo il checkpoint e tutte le cose lancia quello poltrona tecnici sono sono sopra il tubo verde non so come ci sono arrivato ma sono sopra il tubo verde sarà servizio sarà pomeriggio sapete che succedono attenta a christian io basta che in quella arancione e prendi checkpoint giusto christian no cristiano lo deve dire che c'è qualche cosa invisibile da prendere il culo no no c'è c'è non ci arriva il pazzista credo no mi ricordo che c'era un muro invisibile queste cose di sera non si possono io non ho preso l'ho preso preso ragazzi io non posso finire la gara ho preso l'ho preso che cosa bella che è successo se fosse di sera non si può non si fa tutti dopo la rampa c'è un ride coi boost evitare gli ostacoli i freni buono buono saperso maiole perché non va bene ragazzi io non ho capito come città andiamo tutta testa che cazzata non lo so no non devi andare a livello. l'ho questo gioco ci sono un'emozione c'è un'emozione non mi raccomando 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 non ciò ma più non mi raccomando sono poi non 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 sì sì vaffanculo non si può fare 46 minuti io penso di dirò forte né ora in cui ne domani la scena un'altra la forma noi dobbiamo un altro lato un'altra cosa no il che sulle fuori unico figlio la mia camera porta dove cazzo non è capo per ora non è il bustore coglione di stasera l'uomo più di più si può stare qua quando ho un po' di più